E' un nuovo episodio di My Hero Once Justice Ora, in teoria, non c'è una battaglia, però, dato che comunque sia, è un picchiaduro, in qualche modo dobbiamo sopperire alle poche battaglie che ci sono, quindi facciamo combattere Midoriya contro Ida Tanto per cambiare Ed è giusto così, ed è giusto così Ed è giusto Ed è giusto E' giusto E' giusto Ecco E' giusto E' giusto E' giusto oh pressione ben benny Perfetto, perfetto, perfetto. Buono. Beh, sarebbe piuttosto semplice, dai. Buono. 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 Finire l'avversario con una presa è una cosa che secondo me nei giochi picchia duro è la cosa peggiore che possa esserci Intendo a livello di tecnica ma contro una persona vera Più che altro non contro i bot contro i bot che ci fai contro una persona vera Teo da asuna O it's a taisetna koma da Dekireba scusi mimi o katamakete ho scattata Kimi to a vacari aereo Ne Sicata gana Senza Ok vediamo un po' questa nuova storia Oh quando il might va al salvataggio Allora Questo è quando il might va al salvataggio ci siamo allora Siamo arrivati Che bello Che bello allora Che bello Non è un boss, non è un bambino, non è un bambino. 黒giri, compresi. Vieni a dormire. Vieni a non parlare di questo. Vieni a sentire. Vieni a chiedere. Ciao, Pizzaya, i'm Kaminoten. Vieni a riuscire. Vieni a riuscire. Oh che bello All Might È la prima volta che lo uso Vediamo un po' come si comporta l'eroe L'eroe numero uno Male si comporta male Vai su Plex E vabbè è allora È allora Dillo no Attenzione Attenzione Ah tipo quella che ho fatto contro Nomu Grazie vecchietto Mo' lo prendo No Pensavo di finirlo con quest'ultimo pugno Invece no Invece ora Cavolo però è tosto Tomura A parte che il Might è lento Mamma mia No No Non È È È È È È È Non si può rinforare così semplice. Non è possibile. Non è solo noi. Sì, è qui qui. Grazie, non è solo il loro! Il nome è Nome! Mi a scusate, Isgara Kittomura. Mi a scusate a il suo nome di Nome, non c'è... Ah? Aspetta, è Gran Torino contro Davy Questa è interessante allora Ma con All Might come supporter magari Sai che sventoli che arrivano Il vecchietto non è male Però Oh, non si può rinforzare Piran Renko Perché? Siamo arrivati Non si può rinforzare Non si può rinforzare Bene Ah Mamma mia se è veloce però Bello Mi piace Sto attacco Com'è? Diamo un po' questo Eh niente Vale solo se lo becco vale Bella dall'atto Guarda proprio Vedi addirittura Il La barriera di assuolo che viene infranta Meglio di questo che vuoi Ok allora Facciamo questo e poi ci fermiamo Perché poi c'è la battaglia Decisiva Proprio lui All Might dovrebbe essere L'ultima persona Che lui dovrebbe Bocchiare Per quello che è successo Per questo voglio finirla qui Ma che bello Carolina Smash Ma mi copi? Beh sì In teoria Non mi copia Non mi copia Aspetta che mi carico bene Sì sì Tu aspetta No Aspetta solo una cosa Eccolo Eccolo In rush Si Dai Oddio si è un attimo frizzato Cos'è successo Quello che arriva ora Quello Era il vero plus ultra Oh mio dio che bello Terminare lo scu... Terminare o meglio Provarci a terminarlo con Il rush di 300 colpi Di All Might però Oddio in teoria sarebbero più di 300 Però Ovviamente Chissà perché Chissà perché è un tornado Allora Allora finiamo questo episodio Con il filmato che diciamo farà da introduzione Per il prossimo video Che poi sarà Il magnifico scontro Tra All4One E One4All Per il prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti